Quando vuoi iniziare? Tra web e arti performative. Un campo da esplorare e che lascio tranquillamente esplorare agli altri. Questo perché lo posso facilmente considerare un impegno, un lavoro al quale bisogna dedicare del tempo. Quindi si fanno a monte delle scelte e queste scelte mi hanno portato ormai da tempo a dedicare la quasi totalità del mio spazio-tempo al lavoro pratico in sala, quindi al lavoro fisico, al lavoro più concreto. Abbiamo dei collaboratori, in particolare la persona che si occupa del suono, che si occupa anche quindi della musica e si occupa anche dell'immagine. Deleghiamo a lui scelte e indicazioni sotto la nostra supervisione. Nostra, mia di Barbara, la direttrice della compagnia. NUT. Ciao. Va bene, grazie.